non ride guarda non mi imbarazza sto sorridendo vado bentornati a se io sarei la nostra piccola utopia online in cui ci piace parlare con gli artisti che abbiamo nel nostro panorama sardo e sassarese passatevi il termine oggi siamo qui con una mia cara amica è una pittrice talentuosissima carla carta che salutiamo io saluto voi ciao a tutti magia del cinema grazie dell'invito alessandro carissimo amico è davvero persona importante davvero bellissima questa cosa mi sento a casa un bel salettino bella gente quindi se io sarei il nostro spazio online per voi per chi si vuole un attimino mettere in mostra e raccontare un attimino quella che la propria passione il proprio talento diciamo è la propria arte abbiamo avuto altri ospiti oggi vogliono parlare con te vorremmo che ci presentarsi carla carta quindi chi è carla carta scusa per la terza persona di giornalismo chi è carla carta raccontaci un po quando è iniziata la tua passione per la vita allora chi è carla carta scusa per la terza persona si sono io in realtà nasce quasi per genetica secondo me non la bravura ma l'istinto fondamentalmente perciò ti dico che nasce durante l'infanzia cioè i primi primi momenti di approccio all'arte secondo me derivano da lì e deriva dal fatto che la scelta è stata quasi istintuale no anziché tieni i calci a un pallone la verità la prima era scarabocchiare un foglio era utilizzare ognuno poi scegli i propri strumenti no nel senso il mio è fatto insomma usare la matita il foglio penarelli o colori o tutto quello che poteva essere insomma arte visuale fondamentalmente e ancora non sapevo che cosa volesse dire ovviamente però sì probabilmente nasce da lì e nasce come ti dicevo a livello genetico forse ci credo un po è molto filosofica questa cosa però credo nel fatto che mia madre fosse molto brava a disegnare e quindi qualcosa secondo me sì non lo so perché poi questo sarà una di quelle domande esistenziali per cui cioè si nasce artisti o si diventa non lo so non te lo so dire se non basarmi su quello che è stato per me insomma e quindi chi è carla carla è una che ovviamente una bambina fondamentalmente che insomma risultata immediatamente molto introversa e quindi scegliere questo tipo di approccio secondo me essendo quindi una bambina così introversa è questione di silenzio di sedersi e di esprimere qualcosa no a livello emotivo perché non è mai stata replicare qualcosa la natura le cose la qualcosa che hai dentro la qualcosa che hai dentro ed è un tipo di comunicazione secondo me fondamentale proprio perché non è verbale ma è un tipo di comunicazione sicuramente diversa questo ci arrivo oggi a quasi 30 anni ma ovviamente dopo che ho fatto il mio percorso ci arrivo arrivo all'arte solo forse un po tardi all'arte intesa come la maturazione la maturazione sì in quanto arte arriva quando mi scrivo all'accademia di belle arti a sassari e lì l'approccio sicuramente è stato diretto anche perché avevi bisogno sicuramente di stimoli di riferimenti ovviamente non ce li avevi nasce forse facendo il classico qualcosa di sicuramente di inconscio di filosofico e di profondo nasce secondo me lì e poi sfocia in questa scelta che non cambierò mai nel senso non mi pentirò mai di questa scelta scelta difficile perché è un mondo difficile ragionata ben ragionata anche un po istintuale come gran parte delle scelte che faccio nella vita e a volte è sbagliato a volte insomma può essere la soluzione può essere la salvezza però ritengo a chi magari ci pensa troppo a fare una cosa esatto 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 personalmente si chi invece magari si butta a capofitto e poi raccoglie quello che ha seminato perché devi seguire una linea se avevi questo in mano lo dovevi trasformare in qualcosa di concreto quindi ricapitolando partiamo da l'istinto da giovane questa è la partenza è una cosa in cui mi rivedo molto anche in realtà perché anche io parallelamente con la scrittura anche io penso che sia un po di genetica ma soprattutto da come vieni cresciuto nel contesto perché mia madre lo stesso sin da giovane scriveva tantissimo ed è una passione che mi ha trasmesso in realtà questo collegamento mi è davvero familiare fai bene hai fatto bene a citarlo subito perché la parola e la scrittura secondo me per quanto mi riguarda anzi è stato un'associazione fondamentale poi alla al disegno e alla e a lasciare una traccia perché secondo me era quello fondamentalmente la traccia di un passaggio di sensazioni di emozioni questo è ovviamente anche la scrittura ha fatto parte del del mio background fondamentalmente la la scrivere i diari scrivere i pensieri scrivere testi questo è sempre stato ugualmente anche tu come quella di scrivere quindi tu prima magari di mettere infatti ti volevo chiedere questa cosa no perché qua anche con altri ospiti abbiamo parlato di come nasce la loro ispirazione fondamentalmente no e tutti hanno detto qualcosa di diverso no c'è chi magari parte da parlando di videomaking più dal montaggio che dalla scelta dell'inquadratura chi dal disegno e così via tu come inizi cioè da dove parte il tuo processo quando ti devi approcciare a un foglio bianco praticamente il foglio bianco lo temi ecco lo temi in in fase adulta secondo me ovviamente la bambina è tutto spontaneo il foglio bianco lo temi ma è spazio fondamentalmente e impari dopo a gestire questo spazio e non avere paura anche dei vuoti perché una cosa che ho notato è che mi è sempre piaciuto lasciare lo sfondo così com'era no e queste immagini che un po' alle volte galleggiano non necessariamente per forza centrali o per forza inquadrate in un certo modo ti dico questo perché a livello accademico sono molte le regole da seguire poi ti accorgi di questo e quando invece sei una persona che le regole le segue poco effettivamente cerchi di andare oltre questa cosa un po' contro questa cosa sono dei parallelismi incredibili penso che tutti ci troviamo a affrontare dopo che abbiamo studiato tutta una marea di regole che servono per la nostra chiamiamo la professione che molto spesso limitano la tua ispirazione cioè non so se per te capita sono limitanti secondo me ci sono delle regole che sono fondamentalmente limitanti questo limite bisogna anche superarlo anche contro quei livelli accademici per cui effettivamente ti dicevano no non si fa così si fa così si fa così si fa così compresa non usare la gomma quindi vacci di questa cosa mi ha sempre colpito non potete cancellare cosa? no 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 se all'inizio questa cosa mi terrorizzava perché ovviamente la paura di sbagliare no la matita la cancelli se vedi che è sbagliato a un certo punto la gomma la lasci e lasci davvero quello che è la traccia iniziale di quello che stai andando a fare quindi anche l'errore che hai fatto l'errore diventa qualcosa di fondamentale in realtà per la costruzione poi di quello che è perché è libero questa è l'unica bella regola di cui mi ricordo di cui ho un ricordo davvero fondamentale perché forse ti incentiva a sbagliare come regola no? ti incentiva a sbagliare e infatti in realtà ha la domanda che cosa è l'arte no? perché poi che tutti fanno che è una cosa difficile che tutti fanno ma ma sì ma anche quando segui la stessa lo stesso procedimento comunicativo alla fine arrivi anche prima che tu faccia le domande magari arrivi poi ai punti che sono quelli fondamentali che tutti hanno cercato di a cui tutti hanno cercato di dar risposte no? nel senso ma quella forse che cos'è l'arte è una di quelle proprie domande a cui non si riesce a dare una risposta ma secondo me è un bisogno l'arte non può essere incastrata in chissà quali cassetti o appartiene a chissà quale cosa è un bisogno di comunicare se ci pensi nella storia perché alla fine secondo me arte è storia tutto quello che è stato creato a livello artistico è la risposta di qualcosa che succedeva in quei tempi ma è sempre stato così quindi il bisogno di comunicare il bisogno di esprimere delle cose e per cosa intendo la vita cioè leggerissima quindi una roba leggerissima esatto una piccola ambizione comunque il tuo spazio è uno spazio bianco che è una metafora bellissima perché effettivamente anche il nostro spazio web è uno spazio bianco che noi riempiamo con le vostre esperienze anche una cosa e contenuti personalmente a noi che stiamo creando questo format ci piace veramente tanto riempirlo in questo modo perché abbiamo bisogno di contenuti fondamentalmente sì c'è una necessità di contenuti ok che mancano mancano davvero infatti proprio volevo arrivare a questa domanda questo nostro foglio bianco secondo te si sente una mancanza là fuori di dare questi spazi bianchi agli artisti che magari hanno necessità di voler esporre i loro lavori perché sai come anche io magari scrivo però fino a quando la cosa che ho scritto rimane ferma lì nel mio computer nel mio taccuino è solo mia rimane solo tua però un artista a volte ha proprio voglia di essere perché è una forma di comunicazione no? e secondo me è la forma più democratica che possa esistere perché davvero l'arte è per tutti anche per chi non la capisce è davvero per tutti così come lo è la musica così come sono tutte quelle parti che compongono l'arte l'arte infatti è un insieme di cose fondamentalmente quindi secondo me è anche questo e anche e soprattutto questo ma dici che là fuori si fa il giusto per aiutare o per dare lo spazio alle persone magari come te agli artisti come te che vorrebbero esporci in realtà è una domanda che va sicuramente approfondita nel senso che di spazi ce n'è molto pochi parliamo noi che siamo anche sardi nel senso isolani costretti in uno spazio effettivamente dove intorno c'è solo il mare e di strutture che si dedicano a questo ce ne sono ben poche se ci sono le poche che ci sono hanno grande valore effettivamente città male qualcuno effettivamente il mandi nuoro a cagliari effettivamente possiamo definirla davvero una città gli stimoli sono sicuramente diversi e vivi però credo che gli spazi si debbano creare come avete fatto voi che è una cosa bellissima gli spazi vanno creati cioè non puoi neanche pretendere che gli spazi arrivino se non ci sono li crei poi in piena pandemia ancora dopo un anno effettivamente gli spazi sono sempre sono ancora più ristretti anche a livello di pensiero no alle volte quindi bisogna uscire da questa cosa poi effettivamente quasi 30 anni siamo giovani anche se il tempo è per forza non bisogna neanche avere paura bisogna avere paura del tempo che passa però le cose bisogna costruirle bisogna costruirle capito però alla domanda se davvero c'è si fa il giusto si fa il giusto no è poco è davvero molto poco si può fare molto ma molto ma molto di più l'accademia una cosa bella me l'ha insegnata creare contatti e lavorare in gruppo perché il gruppo davvero ti porta a qualcosa di concreto da solo si inizi fai ma come dici tu rimane nel mio computer rimane nella mia scrivania rimane sotto il cuscino o sotto il tappeto insomma dove voi esatto come la polvere quello che non si vede insomma lo è lì però è lì lo tiro fuori questo prima o poi deve arrivare però è solo insieme si fanno queste cose ti dico che l'accademia me l'ha insegnato perché il gruppo di lavoro con i tuoi colleghi era un gruppo importante quello che facevi cioè quello che fai tu è diverso da quello che fa l'altro e l'altro ancora insieme esce escono delle cose molto belle anche lavori a quattro mani a sei mani voglio dire unione e poi tra giovani questa cosa un po' manca quindi l'unione l'unione è davvero fondamentale secondo me e da lì poi esce esce tutto cosa è cambiato secondo te nel modo di fare arte oggi inteso proprio nel tuo campo la pittura magari che cosa è cambiato secondo me la pittura deve esistere e deve esistere per sempre però deve viaggiare insieme al contesto storico sociale politico perché sembra così ma all'interno di un lavoro di un progetto c'è tutto questo cioè la tua domanda era difficile la mia risposta altrettanto però è davvero questo secondo me c'è tanta di quella roba dentro che cioè magari dovrebbe non so se ho capito bene la risposta ma che era difficile era molto difficile esattamente non volevo dirti è un spazio democratico tranquillamente dirmi che sono un coglione ma se ho capito bene l'arte impegnata per esempio definita arte impegnata come hai detto tu rappresenta un percorso che noi abbiamo davanti oggi con tutto quello che sta succedendo a livello politico e sociale là fuori cioè tu dici magari non dico a più valore ma a più interesse per te parlo in modo personale un'opera che magari rappresenta qualcosa che oggi stiamo vivendo piuttosto che un'opera che la spara proprio lontano e parla di cazzi e mazzi tipo del settecento esattamente ma partendo dal dal classicità dell'arte arriviamo agli anni novanta per dirti adesso ti faccio un esempio si arriva agli anni novanta e si arriva a dover necessariamente parlare e discutere dell'ids del gender dei generi maschile e femminile e delle guerre fondamentalmente della sofferenza quando ti parlavo di emotività e di queste cose da qualcosa derivano e può derivare solo esclusivamente dal contesto sociale che vivi per forza c'è un artista degli anni novanta che amo profondamente ma proprio amo profondamente è Nancy Spero Nancy Spero è una di quelle donne che hanno fatto davvero collettività con altre donne artiste e ce ne erano davvero tante perché sembra così ma ci ricordiamo spesso e volentieri solo degli uomini ma ce ne sono state davvero tante lei per me fondamentale come lo è stata e lo sarà per sempre Frida Kahlo che in tempi non sospetti lei parlava già di genere maschile e femminile lei era un esempio fondamentale e ce ne sarebbe da dire che puoi fare qualche domanda ma è figurati la donna della mia vita l'esempio proprio un'opera di Frida Kahlo che è quella che proprio ti ha fatto scoprire amore per questo personaggio o questo artista? L'opera sì che mi ha fatto innamorare davvero di lei è un'operetta tra l'altro di piccole dimensioni perché siamo abituati anche a vedere i suoi lavori il suo teatro autobiografico perché così si chiama perché è un teatro di piccole dimensioni il titolo Il Cervo Ferito in realtà che ho anche tatuato nel braccio perché volevo che avesse queste sembianze al suo volto e tra l'altro è una delle mie preferite perché c'è questa combinazione di umano e animale che è quello che mi ha colpito ti ho sempre detto delle tue opere che tu conosci anche un po' l'inizio di poi di quello che poi è stato nel mio background sì artistico quindi questo connubio di innanzitutto si parla di corpo fondamentalmente autobiografia sicuramente però questo collegamento tra corpo umano e corpo animale e in questa opera di Frida di cui sono fondamente innamorata c'è questo c'è questo connubio c'è questa unione ma oltre questo mi ha affascinato l'idea che lei oltre a essere lei in realtà prima di essere artista voleva essere medico poi dopo insomma l'incidente effettivamente non avrebbe più potuto fare questo non ha più potuto far questo e si è dedicata a quello che era si scopre quindi alla fine ti dico si scopre artista si scopre in un certo modo da qui poi si vede anche la perfezione anatomica e artistica che insomma va a rappresentare la cosa che mi affascina molto di più tra l'altro questo questo ritratto animalesco risale al 1946 quindi sembra molto vecchio ma effettivamente non è passato neanche così tanto tempo se ci pensi è un lavoro meraviglioso e per significato deriva dal sonetto di Petrarca perché Petrarca scrisse riferendosi scrisse una poesia riferendosi al quarto libro dell'Eneide di Virgilio dove attento a questo collegamento dove si racconta di Didone che era la regina di Cartagine non lo ricordo stregata dal dio amore si innamora follemente di Enea un amore non corrisposto lei presa dalla disperazione si suicida diciamo che nella nella storia lei si trasforma in un cervo e vaga all'infinito nei boschi per poi morire suicida lanciandosi in mezzo alle fiamme Frida quindi riprende la classicità questo per dirti che la contemporaneità dell'arte dipende sempre da qualcosa che è stato prima come tutte le cose come la storia ci insegna però lei ne fa un incastro perfetto un incastro bellissimo cioè vi spiego un po' il ritratto il suo volto c'è il suo volto in mezzo a una foresta lei ha le corna del cervo il corpo di cervo è trafitta da nove frecce e l'idea è appunto che lei stia vagando prima di morire in questo bosco e lei rappresenta all'interno di questa di questa pittura nove sono le frecce e nove sono gli alberi perché nove sarebbe riferito al nono girone dell'inferno cioè perché c'era anche in Dante per i esatto esatto lei si rivede in Didone per la sofferenza amorosa sappiamo che Frida ha sofferto tutta la vita per delusioni d'amore e anche delusioni anche insomma abbastanza pesanti la serie di aborti insomma una vita un po' al limite e lei si rappresenta in questo senso come la regina di Cartagine però nove vedi questi sono proprio i rimandi classici di una donna che ha studiato una donna che ha studiato il rimando però è proprio suo personale ha rappresentazione la rappresentazione della sua sofferenza e te la sta spiegando in questo modo i riferimenti sono evidentissimi il nono girone dell'inferno è appunto quello dei morti suicidi per amore e questo infatti sì è una delle cose che mi colpiscono di più ma ah no scusate volevo la parola no no era solo per dire che alla fine realtà e inconscio sono due cose differenti ma che lei riesce a unire a mescolare a mescolare in una immagine in un racconto non fatto di parole ma fatto di immagine nel senso di fortissima poi se ci pensi se pensi alla storia è un'immagine fortissima no? quando ti dicevo la profondità andare a fondo alle cose la scelta del piccolo poi sono arrivata a pensare anche a livello politico no? il piccolo è sempre stato il marginalizzato il piccolo è l'eliminato il piccolo è il margine il minimo è l'intimo anche la minoranza ok è la riduzione di un concetto grande è la riduzione in uno spazio piccolo e qui possiamo anche parlare di frammento no? io ti dicevo da bambina il bisogno di lasciare una traccia di un percorso di un qualcosa un frammento e a livello politico ti dico cos'è piccolo? piccolo piccoli sono diventati i generi le razze i paesi no? la marginalizzazione l'alienazione anche lì a quel punto il mettere da parte il piccolo è inteso così io invece nel piccolo è proprio nel piccolo che voglio dare importanza a contenuti di un certo tipo nel piccolo perché è anche più tangibile è più tascabile è più trasportabile è più più al passo quel tempo è più intimo no? probabilmente è anche più intimo secondo me molto probabile infatti qua abbiamo tutta una Nicola se vuoi fare una bella carrellata una sfilza di chiamiamole piccole opere di Carla che se ti manchi di raccontarci un attimino sì sì in realtà questo è il mio comando in realtà sono tutte fighissime ce ne ha regalato anche una per lo studio sì perché si fanno queste cose il baratto in arte è una cosa davvero molto bella bene lo dico tipo per tutti quelli che avranno qua se venite qua ci dovranno fare regale no questo bisogna farlo perché ripeto bisogna lasciare qualcosa negli spazi proprio voglio dire i lavori lavori come questi devono occupare degli spazi per forza non possono rimanere a casa a prendere polvere esatto in realtà questi questi tre in particolare c'è una serie in realtà che ma ho scelto questi tre perché sono molto affezionata a questi tre piccolo spazio creature inventate personaggi inventati sono maschere in realtà perché a me già questa rispetto al connubio corpo animale e corpo umano sono incastri fondamentalmente dove non si capisce il genere poi fondamentalmente non c'è maschile femminile non c'è esatto soprattutto quello esatto questo è un talento inutile che ho sempre avuto perché meno che sia una persona molto allegra in realtà sono una persona molto infelice cioè nel senso molto triste molto profonda nelle cose dimmi essendo una persona molto introversa e in realtà io ti conosco che sei la persona meno introversa di cui cioè per come ti conosco io in amicizia cioè sei la persona più espansiva che conosco è maschera sono maschere effettivamente qui abbiamo le maschere l'idea poi era creare una sorta di teatro degli errori l'avevo chiamato questa serie teatro degli errori proprio per questa inquietudine per questa anche la scelta dei colori a me il nero fa impazzire da sempre il buio e questi volti che effettivamente escono da questi corpi indefiniti nel senso l'idea era anche quella di non dare il solito titolo il solito nome ma crearne qualcosa in realtà ho dedicato a questi lavori delle frasi delle frasi che hanno sonorità perché poi anche con la musica io ci vado a nozze nel senso che senza musica io più delle volte non potrei produrre l'ascolti per forza per fare questi in realtà una sorta di post-punk un po' psichedelico sì che mi rilassa ci sono delle musiche che alle volte non sono rilassanti quella che ascolta Gianmarco esatto non lo so a me rilassano tantissimo mi hanno sempre perché ti fanno entrare in quella specie di buco nero da dove nella tua sfera per esempio il titolo di questo è gravitano sulle spalle grevi pianeti aggrovigliati c'è questo questo queste aiutami tu che sei il più intellettuale assonante come si come si possono definire sonorità 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 prova dirlo tre volte velocemente gravitano sulle spalle grevi pianeti aggrovigliati ok ce la fai non ce la fai non ce la fai oppure che ne so questo questo è bellissimo gli ho dedicato questa frase sul trespo lo aspetta la ressa che gli aspetta tipo e raccontare per questo l'importanza delle parole gli do davvero una grande importanza perché è vero che hai qualcosa di visibile davanti ma è anche vero che certo non lo devi spiegare ma gli devi dedicare un insieme di parole che messe insieme danno un'associazione un suono una un significato e un significante no? entrambe le cose effettivamente perché sono si tratta di dialogare tra segni e significato ma tu quindi questa è quando le esponi le esponi anche con la frase si sotto ok si nero su bianco ovviamente perché ci piace si perché queste cose mi piacciono molto e lei aspetta no? hai lasciato un'altra ah si a questo ho dedicato siccome hai piedini un po' in trasparenza effettivamente e lui è un po' strallunato un po' come me è una figura umana più questa no? si forse forse è più umana perché poi io ci tengo molto all'incarnato effettivamente quindi se noti il colore è palesemente quello dell'incarnato umano no? il naso un po' rosso vuol dire che c'è sostanza c'è corpo no? c'è sangue c'è sangue esatto questo era i piedi raccolgono pezzi di mondo calpestato e non lo so volevo dedicargli del significato non solo un titolo ma la 131 va fuori se vuoi metti c'è questa qua se tu abiti in 131 mannaggia mi bene e invece questa questo trittico chiamiamolo così con queste parole accademiche un trittico questo è stato fatto in in lockdown vediamo in realtà l'essenza del tratto lasciato così libero cambiamo tutto il stile però proprio sì vedo che il colore predominante è quello l'azzurrino delle mascherine esattamente fatto assolutamente apposta poi il blu e l'azzurro nonostante il rosso sia il colore preferito tendo spesso a usare questo colore non so perché ma questo ci deve ancora arrivare non l'hai capito non l'ho capito questo ma mi piacciono le cose che poi rimangono un po' incomprese arriverò come sono arrivata a questo arriverò anche al resto in realtà qui pensavo una volta che finirà tutto questo quali saranno davvero i nostri volti no? qualcosa è cambiato esatto quale sarà che cosa che cosa rimarrà se non fondamentalmente lo sguardo che oggi è una delle parti del volto che si vedono di più visto che naso e bocca ormai si e quindi cambierà forse anche il modo di comunicare è cambiato un po' il modo di comunicare di comunicare direttamente col prossimo nel senso lo sguardo io poi faccio anche un altro lavoro per poter vivere e faccio lavoro al bar come tu sai la comunicazione del volto è fondamentale quindi dal sorriso allo sguardo un sacco di cose ti dico che in questa situazione mi sono trovata in grosse difficoltà con la mascherina con la mascherina come tutti fondamentalmente la comunicazione diretta è diventata un po' limitante quasi che non riesci più a capire chi è davanti sì anche le persone che conosci sì cioè ti da è come se avessi non un pezzo di stoffa ma un muro davanti sì il tratto volevo dire qualcosa sul tratto sono quasi tagli sono i tratti lasciati così come se fosse una bozza l'indefinito nel senso non la chiusura totale dell'immagine ma lasci spazio a qualcosa nel senso in questo senso ci tenevo a citare che ho citato forse anche all'inizio e non lo trovo più ok ho fatto i compiti a casa ho fatto i compiti a casa sì mi piace leggere mi piace quindi mi piace scrivere tornando al discorso la scrittura io poi mi dimentico le cose quindi sono una persona che scrive tutto davvero tutto sarà la passione della penna della matita ma qualcosa in mano per lasciare il tempo lo devo fare questo ma sempre fisso sul frigo in camera c'erano delle robe assurde un giorno mi chiesero se volevo partecipare a una mostra per la festa della donna in realtà sempre con questo velo di macabro un po' di cose strane presi un manichino trovai un manichino è stato difficilissimo trovare un manichino pensavo fosse così difficile trovare un cavolo di manichino riuscì a trovarlo e il volto non c'è nei manichini stiamo parlando di bambole di plastica di zero profondità che cosa c'è? è un corpo fondamentalmente tra l'altro stereotipato per cui alta fisico in certo modo il volto non esiste effettivamente in questo tipo di oggetto che insomma vediamo sempre lineamente abbozzati e standardizzati voglio dire il volto non lo volevo più e le mesi per l'esposizione ho il teschio di una mucca bellissimo lo ricordo quindi c'è morte effettivamente del corpo perché stiamo parlando di un corpo di plastica e questo volto che non è più un volto ma è una maschera viva però è stato qualcosa in vita era un animale quindi il fatto di metterglielo lì sopra volevo che ci fosse di nuovo questa unione tra corpo umano e e volto animalesco fondamentalmente e cosa ti vissero lì quando vederò quell'opera qualcosa che ti hanno detto o comunque com'è stata è stata la prima volta che ero una delle prime volte sì 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 una delle prime nello stesso anno sì posso definirla una delle prime volte però dico messa in un in un contesto sociale di un certo tipo che era la mostra era il museo no quindi intorno a te vedevi io le opere i lavori di tanti ragazzi opere bellissime e poi questa cosa che alle volte passava anche per oddio è caduto qualcosa in terra è rimasto lì perché io la sdraio e la sdraio e la sdraio io forse ti avevo detto mica ti è caduto ti ricordi? ehm questa marginalità no 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 ma io invece sono contenta di questa cosa perché effettivamente se tu pensi che le persone schivavano e si chiedevano ma cose perché io li ero già soddisfatta anche se la scansavano perché non è neanche la solita posizione in piedi per cui tu i guardi ma non me l'hai mai spiegato questa cosa ma è geniale secondo me ah sì? non me l'avevi mai spiegato e mi hai guardato in terra ma io l'avevo vista e ti avevo detto guarda che era è per terra eh sì e tu non avevi mai risposto no e tu mi hai detto c'è un motivo un giorno te la stai oggi vabbè cioè sono passati tipo 5 anni però vedi ritornare sulle cose no ma è bellissima questa cosa grazie grazie sono contenta la cosa che hai detto che la gente la schivava così a dire e tu volevi rappresentare una donna praticamente cioè sì la cosa in conclusione volevo dire che quello che stiamo facendo è una cosa bellissima perché stiamo parlando d'arte non è solo fare arte ma è anche parlare d'arte secondo me è fondamentale ehm per non perdere il focus per rimanere sul pezzo per avere un confronto ehm grazie perché è una cosa bellissima in realtà questo spazio è una figata figata si può dire sì si può dire ehm ehm perciò in conclusione volevo dare importanza sì alle parole all'aver parlato d'arte e volevo citare una parte del libro di Saviano l'ultimo di Saviano che è Gridalo una Bibbia per tutti i ragazzi della mia età della mia generazione oltre in generale per tutti ehm lo consiglio ehm e ora ve lo leggo sono solo parole solo parole e quando tu dichiari amore che cosa usi? parole quando tu ferisci? parole quando cerchi di proteggere? parole di proteggerti? parole quando cerchi conforto? parole di confortare? parole persino quando invochi Dio non usi forse parole ecco questa è l'importanza la comunicazione le parole hanno un peso e parlare d'arte è stato bellissimo ragazzi bellissimo sì allora siamo in conclusione noi siamo felicissimi di aver ospitato Carla così come tutti gli altri artisti grazie a voi tanto diciamo che facciamo insieme a lei una chiamata alle armi per tutti coloro che avessero voglia armi vere vere armi vere armi o parole o parole o se armi lasciatele a casa esatto almeno se venite qua ciao Donald di nuovo ciao Don facciamo una chiamata alle armi per tutti quelli che volessero esporsi diciamo che questo spazio di arte è per voi è per tutti è per tutti quindi vi salutiamo con le nostre parole e con Carla ci vediamo al prossimo episodio grazie ancora ciao a tutti ciao ciao veniteci a trovare